C'è anche un originale e pressoché unica cartolina ventaglio con il tipico panorama di Torino vista dal Monte dei Cappuccini tra i 40 pezzi della collezione in mostra nella Galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris. L'esposizione è stata inaugurata in concomitanza con Ventagli delle Montagne, rassegna che il Museo Nazionale della Montagna di Torino dedica alla propria collezione di ventagli promozionali, 130 esemplari dalla metà dell'Ottocento agli anni Cinquanta e del Novecento, provenienti soprattutto dalla Svizzera, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e dall'Italia. Strumento nato con scopi estremamente pratici, antico quanto il caldo che si prefigge di alleviare, il ventaglio è diventato nel corso dei secoli oggetto di moda, souvenir del Gran Turo, gioiello da sfoggiare in società. Poi, con l'arrivo della civiltà dei consumi, è stato letteralmente arruolato dall'industria della pubblicità, fin dall'esposizione universale fin de siècle. E in America, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, ha pubblicizzato di tutto un po', dalle sigarette alle sale da ballo alle imprese di pompe funebri, spesso mantenendo un legame particolare con la montagna, ritratta nei suoi aspetti più maestosi e suggestivi. Era considerato un oggetto di ricordo perché si riferiva ai luoghi e quindi riportava le riproduzioni dei luoghi, delle montagne che si erano visitate, piccole storie della montagna, insomma era un modo di collegare oggetti di uso quotidiano come erano i ventagli alla cultura della montagna. A completare la mostra, una selezione di fotografie, manifesti e cartoline commerciali. Anche loro, come i ventagli, testimoniano la forza comunicativa attribuita a cime come il Cervino o a località come il Sestriere per pubblicizzare e promuovere oggetti di lusso di largo consumo. Ventagli delle montagne, che dopo Torino farà tappa a Trento in occasione del Trento Film Festival, sarà visitabile a Palazzo Lascaris fino a venerdì 8 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. L'ingresso è gratuito.